Il Consiglio dei Ministri è tornato al lavoro. Tra i nuovi disegni di legge c'è quello sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma del codice della strada con nuove strette su guidatori ubriachi, drogati e distratti dal telefono. Stop per chi al volante si distrae con il cellulare. Il DDL prevede il ritiro della patente da 15 giorni a due mesi e una sanzione fino a 1697 euro. In caso di recidiva la multa arriverà fino a 2588 euro. La sospensione può arrivare a tre mesi e si aggiunge la decurtazione da 8 a 10 punti. Patente sospesa anche per chi è trovato a guidare contro mano o passa col rosso. La conferenza unificata ha poi chiesto e ottenuto di aumentare le sanzioni in alcune casistiche come la sosta nei parcheggi per i disabili con multe da 330 a 990 euro e nelle corsie o fermate degli autobus con sanzioni da 165 a 660 euro. Stretta anche per chi viene trovato alla guida in stato di ebrezza. Chi è già stato condannato e viene trovato di nuovo con un tasso alcolemico tra 0,5 e 1,5 dovrà rinnovare la patente con una nuova visita medica. Per lui le pene per guida in stato di ebrezza sono aumentate di un terzo e gli è proibito circolare senza aver installato sulla sua macchina e a sue spese l'alcoloc, il dispositivo che impedisce l'avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a 0. Chi viene trovato alla guida drogato invece non dovrà più necessariamente essere in uno stato di alterazione psicofisica ma basterà che risulti positivo i test perché scatti la revoca della patente e la sospensione di tre anni. Limitazioni anche per i patentati che avranno da uno a tre anni il divieto di guida di auto potenti e non dovranno superare i 100 chilometri orari in autostrada e 90 chilometri orari nelle principali strade extraurbane. Ci saranno delle tutele maggiori per i ciclisti. Gli automobilisti dovranno mantenere un metro e mezzo di distanza quando sorpassano una bicicletta. Per chi possiede un monopattino invece sarà necessario attivare l'assicurazione, avere una targa e indossare il casco. Chi circola assenza i documenti subirà una multa che oscillerà tra i 100 e 400 euro. Obbligatori anche gli indicatori luminosi di direzione freno con una sanzione tra i 200 e gli 800 euro.